Giorni di negoziato febbrile tra la regione siciliana e il governo centrale di Roma forse hanno prodotto qualche risultato. La vicenda discussa dei 420 milioni di euro di investimenti nel settore riguo per l'agricoltura siciliana, bocciati dai fondi del PNRR, ha generato polemiche politiche, ma soprattutto ansie tra i produttori agricoli. La novità adesso è che 8 dei 31 progetti a suo tempo presentati potranno essere finanziati. È stato appurato infatti che rispettavano i parametri previsti, sei gli interventi esecutivi, due quelli definitivi per un valore complessivo di circa 121 milioni di euro, un quarto dei fondi originariamente a disposizione. L'assessore regionale all'agricoltura Tony Scilla lo ha reso noto a Lars dopo essere tornato dal vertice romano col ministro Stefano Potuanelli. Ai deputati regionali Scilla ha riferito che i parametri del PNRR per le reti idriche non erano stati concordati in modo definitivo in conferenza Stato-Regioni, tant'è che l'8 ottobre è arrivata una nota in presidenza in assessorato per la convocazione della conferenza stessa, dove verrà portato addirittura il bando per il quale però ha concluso Scilla. Abbiamo già le gradutorie. Tre progetti esecutivi recuperati, uno riguarda il consorzio di bonifica, Grigento 3. La questione continua a preoccupare, come conferma Nino Indelicato, presidente di Copagri di Sciacca. Questa vicenda dei progetti bocciati ci sono notizie sulla possibilità che vengano recuperati. Voi domani incontrerete l'assessore, ma intanto alla luce di queste novità avete recuperato un po' di fiducia? Ma un po' di fiducia. La posta in gioco era e resta importante e resta diciamo di vitale per il mondo agricolo. 422 milioni non si trovano dall'oggi a domani e circa 30-31 progetti sono, significa la totalità, per dare una risposta in Sicilia. Recuperare qualcosa, lasciando perdere per un momento le colpe di chi sono e di chi non sono, però la politica se le porta tutte sulle spalle, già è una qualcosina. Vediamo domani, ci dobbiamo incontrare all'assessorato dell'agricoltura per fare un po' il punto alla situazione, per questa questione specifica, ma anche per quanto riguarda altre problematiche che riguardano il settore olivicolo e quant'altro. Noi speriamo che qualcosa si recuperi, l'ideale sarebbe recuperare quando meno diciamo un buon numero di progetti per dare delle risposte in tutta la Sicilia, in modo particolare per quanto ci riguarda come territorio sull'ex agrigento 3. Grazie. 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 Grazie.